Amici sono onorata di essere qui oggi, io sono sindaco da sei giorni e vi saluto e vi ringrazio, ringrazio gli amici di Monfalcone, del Friuli Venezia Giulia che sono qui. La nostra è stata una battaglia di cinque anni, dopo settant'anni di governo rosso a Monfalcone oggi batte un cuore diverso, la città ha voluto un cambiamento che noi sapremmo portare, mentre loro stavano nei palazzi noi eravamo tra la gente, parlavamo con i lavoratori fuori i cancelli di fincantieri, parlavamo con le mamme, parlavamo con le nonne, parlavamo con le famiglie e con i giovani e tutti in coro ci hanno detto basta, il 6 novembre a Monfalcone abbiamo liberato una città, il 4 dicembre andiamo a liberare l'Italia con il nostro no. Grazie a tutti.